Salve ragazzi, benvenuti a questo ultimo appuntamento per quanto concerne il corso di colorazione digitale. Lascio la parola a Noemi così ci svelerà gli ultimi segreti per migliorare ancora di più su questa tecnica. Buona lezione e buon divertimento! Grazie. Allora, prima di tutto voglio aprire un mini discosso su alcune cose carine che si possono fare. Allora, una cosa che si può fare a livello dei flats oggi diciamo il giorno delle chicche è questa cosa qui. Allora, io ad esempio in questo caso non l'ho fatto perché non mi interessava farlo però è una cosa che in realtà faccio spesso. Allora, i flats sono per definizione piatti però non è detto che debbano essere totalmente piatti. Ad esempio io ho questo colore della... ...della... ...graccia. e cosa posso decidere di fare? Posso decidere che non è come uniforme tutte le parti ma che ci sia anche qui un gradiente. Ad esempio se io mi sposto verso il blu violetto me lo seleziono e gli dico la parte più sotto è più viola. Facciamo un po' più viola. Tipo così. E magari anche un po' più scuro. Ok. E inizi a fare questa cosa per tutte... tutte le cose. Per tutti i flats. Ad esempio questo qui a marroncino. Facciamo che la parte sotto è un po' più... è un po' più violastra. Vedete? Ci sono delle piccole variazioni, no? Dobbiamo anche farle più. Quasi un po' troppo scuro. Dobbiamo farlo così. Ok. Questa cosa magari la inizio a fare qua. In questo caso però quando fate questa cosa tenetevi un altro livello solo per le selezioni perché così altrimenti le selezioni le mandate a molte, eh? E mannaggia. Dobbiamo selezionare il gradiente. Quindi creiamo un altro livello sopra i flats? Esatto. Ok. Che è solo per, diciamo, i gradienti, che si possono chiamare. Io ora sto spostando tutto verso il blu, diciamo. Ok? Cioè inizio a fare tutte queste cose qui più o meno evidenti. Vedete? Tra questo e questo c'è differenza. C'è un sacco di micro variazioni. Vediamo un po' a livello di... Ah vabbè io ho l'overpainting sopra. Vediamolo. Vediamolo solo fino a qua. Questo è con i layer con la variazione. Questo qui è senza variazione. E vedete che c'è una certa, come dire, ricchezza in più, no? Questa cosa si può fare praticamente su tutto. Ad esempio, per dire, un vestito. Se c'è un vestito lungo, il cui la maggior parte è dello stesso colore, al posto di farlo piatto dello stesso colore, che ne so, è verde? Ok. Però poi sopra ci metto un gradiente di un verde un po' più giolino o di un verde un po' più blu. Ok? O da sopra o da sotto. In modo tale che ci sia una variazione, ok? Che non sia totalmente tutto piatto. E questa qua era la prima chicca. E la seconda, me la devo far vedere su una tavola, che invece riguarda la luce. Ok, questa piccola cosetta non la sottovalutate perché arricchisce, cioè soprattutto su composizioni grandi, arricchisce un sacco il disegno. fino alla prossima. Allora. Eht, painting, ok? Ok, allora. Allora qui se notate c'è un... adesso se questo lo devo anche ritrovare... tu che cosa sei? Ok sei tu. Allora ora ve l'ho messo in normale. Ci sta quest'altra strana luce rossa, vedete cosa c'entra il rosso? Se noi mettiamo in overlay quello che fa è che rende violaceo esatto lo vedete lungo i bordi guardate se lo tolgo e sta un po di violaceo si può mettere più o meno evidente diciamo. Ok che ci ho fatto sul stesso livello? Ah ci ho anche rinforzato la luce. Esatto c'è un po' di violaceo tutte le parti e qua si vede bene perché è rosso quindi. Ecco come l'hai fatto questo violaceo mi sono sempre pensato come come che colore fosse invece no. Ah si notavo allora. Guardate qua ad esempio guardate questo. E guardate qua. Questo è per riscaldare la luce si chiama Inner Glow e in Photoshop c'è proprio una funzione che lo fa quello che non mi ricordo manco più qual è perché è una funzione automatica del livello insomma se la cercate la trovate però io tendenzialmente la faccio a mano come vedete. Può essere colore brucia? No? Non è non è una funzione di quelli normal multiply eccetera eccetera. Ah un prinseco del livello sì sì se tu clicchi mi sembra col tasto destro sul mouse ti apre. Ah perché io qua su clip mi sa che non c'è. Ah forse opzioni di livello bravissima. Finitura lucida? No c'è qualcosa proprio con la lucida. Guarda te lo apro e ti condivido lo screen così. Ok. Comunque si può fare tranquillamente a mano e come al solito io preferisco perché mi dà il controllo su quello che faccio. Ok? Ok. Come vedete qui tutto questo violastro che ho fatto l'ho fatto a mano cioè ho deciso io dove doveva cadermi. Non è una funzione automatica. Ok? Come al solito. Con quale regola lo hai messo? Eh infatti la quale volevo chiede pure io. Allora. 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 Tendenzialmente ho seguito. Allora l'inner glow diciamo è un effetto della luce quando la luce incontra l'ombra praticamente. C'è una parte più accesa. Ok? Questa parte è più accesa quindi segue segue tutti praticamente. Qua ho deciso che volevo illuminarlo di più e ci ho messo un po' di luce. Però tendenzialmente segue il... La linea tra l'ombra. Sì esatto. Sì esatto. Però l'ho deciso io dove ce ne volevo un po' capito. Se noi lo avevamo detto il resto forse... Ma se non l'hai preso dalla funzione del livello dove... cioè l'hai preso... come l'hai fatto a inserire? Cioè l'hai preso dal pennello? Nel senso? Nel senso tu mi hai detto che preferisci farlo a mano. Ok? L'ho proprio pitturato. Ah ma hai scelto tu il colore? Semplicemente hai preso il pennello e hai scelto il colore? L'hai messo su overlay? Esatto. L'ho messo su overlay perché comunque è un effetto di luce. Oddio. Sì è semplicemente perché volevo riscaldare il punto in cui la luce toccava il piano praticamente, gli oggetti. Sì. E quindi ad esempio se voi vedete qua. Vedete? Senza è semplicemente... come si dice? È semplicemente tutto freddo. Lo stesso. Però... Così? Cosa? Funziona lo stesso. Funziona lo stesso sì. Però questi qui sono tutti trucchetti per arricchirlo. Ok? Anche sulla faccia sua ci dovrebbe stare... No, forse sulla faccia no, però ad esempio qui... Sì, ce l'hai messo sulle guanciotte. Sulle guanciotte mi sa che... Così sono i flats. Sì, sono i flats che ho fatto le guanciotte rosse. Però ok, tutte queste cose qui, queste le ho fatti proprio a mano. Perché mi piaceva riscaldare il punto d'incontro. Quindi lì ci possiamo strademare con le linee. Mi faccio sempre un po' paura quando dite così, però sì. Però sì. Diciamo, è un po' più... Poi non ci fate caso che ora cambia parecchio, perché io ho anche rinforzato la luce. Ok, con questo. Però, insomma, Francesca ha trovato il... Dovrebbe essere inner glow o out glow, comunque è lì nella finestrella. Mi confermi che non c'è su clip, vè? No, su clip non c'è. Perché io ho cercato e non c'è. Ok, perfetto. Grazie mille, Fra. Eh, figurati. Però cercare di farlo a mano. Sì, infatti a mano c'è un'altra poesia. Sì, sì, non viene lo stesso effetto, eh. Cioè, è la stessa linea di pensiero, ma l'effetto non è lo stesso. Perché fra automatico e messo dove decidi tu, come decidi tu, non è la stessa cosa. Certo. Ok. Ok, vi volevo far vedere queste due cose. E ora... Volevo far vedere altre cose. Allora, a proposito di texture di Angela, dell'acqua. Sì. Nel senso, volevo parlarvi anche delle texture e di come importarle. Ora io vi ho fatto l'esempio con clip. Se voi andate su file, non so se c'è anche di Photoshop controllate, cioè importa e poi c'è pattern from image. Sì, affermo che c'è anche su Photoshop questa funzionalità. C'è pattern from image insieme a image. Vedi, sono due diversi. Su Photoshop mi chiedevi, Noemi? Sì. Nello specifico non lo so, perché ho sperimentato solo una volta, però so che c'è la possibilità di importare sia un pattern già fatto e sia una singola immagine che poi il programma ti ripete in automatico. Esatto, infatti è questo, cioè importare image e pattern from image sono due cose leggermente diverse. Se voi gli date un'immagine dicendogli, guarda voglio importarla come pattern, come texture, quello che fa lui è che ti prende e te lo trasforma in dei blocchi tutti uguali che si ripetono. Ti seleziona praticamente il blocco e ti dice guarda questo qui è il blocco che si ripeterà, può essere più grande, può essere più piccolo, però lui lo riconosce come texture. Ad esempio vi volevo far vedere questa qui. La funzione non c'è, c'è importare un'immagine e basta. Ok. Non il pattern. Nel senso puoi farlo uguale. Sì, sì, sì. Questa è una cosa carina perché lui ti crea il pattern, capito, dall'immagine che tu hai scelto. E vi volevo far vedere ad esempio no texture e texture come si possono utilizzare senza far sì che comunque prendano il controllo del disegno. Ok. Ad esempio io qui ho messo la texture sullo sfondo. Ok. Per il legno, semplicemente per, al posto di mettermi lì e a dare una, insomma l'effetto legno a mano, mi sono semplicemente messa una texture che sopra il mio effetto legno va a, diciamo, ad arricchire la composizione. Ok. Però come vedete... Che esce più venature. Esatto. Però non so, cioè io appunto il discorso delle texture è un po' da prendere con le pinze perché ad esempio tutte quelle cose tipo quella che appunto Angela ha messo, dell'acqua, a me non piacciono perché appunto sono semplicemente degli automatismi che tutti quanti possono mettere, sono tutti quanti uguali, non sono tuoi. Ok. Però usarle... Ma quello che io ho usato era un pennello, però poi l'ho comunque calibrato come pareva a me, non è che... Sì sì, però i pennelli per gli effetti... No no, ho capito, però i pennelli per gli effetti sono texture, sono pennelli texture. Sì sì, però sono state, diciamo raggiostate, non è che ho preso e ce l'ho collato. Sì sì sì, no no, ma ho capito, però continuano ad essere impersonali, cioè continuano ad adattarsi al disegno perché sono semplicemente una texture messa sopra. Semplicemente non sono il mio modo di vedere il colore perché io vengo da un colore tradizionale e ci tengo allo stile personale del colorista, che poi è quello che conta, no? Perché altrimenti se mettiamo tutti gli effetti già fatti è così. Però ad esempio metterlo su un disegno che già funziona in modo tale che non è che questo qui me lo cambia, non è che una cosa funziona o un'altra cosa, no. È semplicemente un arricchimento che avrei dovuto fare a mano e invece così me l'ha fatto in automatico. E questa qui è una texture, cioè me l'ha texturizzata con quella funzione lì. Altra cosa che si può fare, vedete la differenza fra destra e sinistra? A destra sì. Ok ve lo zoomo. In realtà... Guardate la carta, la carta, qui c'è la carta, qui no. Questo qui è una cosa che non sono sicura, ora Francesca me lo dirà, che esista anche in Photoshop. Prende, voi lo vedete tutto quanto il mio schermo, no? Sì. Ok, se io vado su Filter, c'è Eff... no, c'è Render e c'è questa cosa chiamata Perling Noise. Questo Perling Noise, guardate che cosa brutta è. Però ora vi faccio vedere come l'ho creato. Aspettate. Perché questo qui vi dà, prendete l'effetto carta. Aspetta, filtro... Aspetta, spu, spu, seconda. Allora, filtro. Render. Ok. E ci sta Perling Noise. Su Photoshop c'è un altro noise, ma non è questo. Non dà l'effetto carta. Dà l'effetto tipico noise, in cui praticamente il disegno... Puntini brutti. Brava. Prendete, ci stanno tutte quelle variazioni tonali fatte dai puntini. Puntini. Sì, le puntinismo. Sì. In cui praticamente il risultato finale è completamente un altro. Non dà l'effetto carta. Invece qui ci sta questo Perling Noise, che apprendete questa cosa brutta. Però se voi mettete la scala molto ridotta, così, e lo mettete o su Overlay o su Soft Light, abbassate... Allora, aspettate, adesso c'è un'altra cosa. Ok, sono diverse. Vi sto spiegando un'altra cosa che vi ho messo lì qua. Questa qui è un'altra texture che ho preso. Questa qui è una texture carta che ho preso. That's it. Invece, quello che vi sto mostrando è un altro modo per fare la texture carta che viene un po' diversa. Però potrebbe starci. Guardate che... Però la metto un po' più... Un po' più piccolo. Perling Noise. Per Scala un po' più piccolo. Vabbè, poi potete cambiare anche altre cose. Però, insomma, già così su Soft Light... Sì, su Soft Light ci sta. E vi dà praticamente questo effetto, se voi lo vedete, senza e con... Ovviamente ho abbassato tantissimo l'opacità, eh. Però vi dà questo effetto di... Non è completamente piatto, insomma. Esatto. Brava, c'è qualcosa sotto. Ok, sembra come un po' una carta da... Da acquerello. Brava. Sembra un po' una carta da acquerello. Mentre questa qui è una texture carta che ho trovato su internet. Ovviamente ce l'ho messa sempre o con Overlay o con Soft Light, perché sono quelle che tendono un po' più a mantenere quello che c'è sotto. Cioè, quello che è più chiaro lo lasciano chiaro, quello che è più scuro lo lasciano scuro. E... Ah, io la texture così la mettevo su Multiply? Multiply ti va a scurire tutto quanto. Invece l'hai messa su Overlay? Questa qui sta su Soft Light. Ah, Soft Light, ok. Eh, di solito le texture non si mettono su Multiply. Si mettono o su Overlay, su qualche tipo di luce, insomma. Ok, ok. Perché tendono a non rovinare il colore, capito? Cioè, se io questo qui lo metto su Multiply, vedi? Ok. Mi va a rovinare quello che c'è sotto. Vedi, su Soft Light, guarda, cioè non c'è differenza, capito? Mmh. È semplicemente ti mette la texture. Eh, questo qui è carino. E eccolo. Infatti ve l'avevo fatto qui. Filter Render, Perling Noise. E quello che esce è questo. Cioè, sono tutti effetti carini, che potete mettere alla fine, quando avete fatto tutto quanto, vi mettete lì. Anche se usate ad esempio Photoshop per motivo X, alla fine magari ve lo spostate su Clip, ci mettete, oppure l'iPad, non lo so. Ve lo spostate su Clip, ci mettete il Perling Noise e lo pubblicate. Ok? Ok. Perché questa qui è carina e su Photoshop non c'è questo tipo di noise. Sì, ce ne ho trovato tipo una mezza sostituzione, però è orribile. Eh, no, ma non... Ce ne stanno altri, ma non è questo. Mmh. E questo qui invece è molto carino. Perché dà proprio l'effetto carta d'acquerello, capito? E invece se voi cercate su internet ci stanno delle altre cose, carta così, state sempre attenti che siano tipo in 4K o quasi, perché altrimenti sgranano. Ok. E in questo caso lo inserisco. Tu qua, tipo rigato, della pagina rigata. Eh, carino, vè? Non so nemmeno se ce l'ho ancora, mi sa che l'ho cancellato. Ehm, andiamo un po' se ce l'ho. Ce l'ho, ve lo faccio vedere, perché ormai ve lo passo pure. E tu quando cerchi questo tipo di texture, che cosa scrivi? Ehm, paper texture. Ah, ok. Proprio di dimensioni grandi. Sì, no, ce l'ho sicuramente nel cestino, se volete dopo ve lo passo, perché questa è carina. E invece per perlinoise, semplicemente dovete fare con il perlinoise. Poi c'è la pasta di slide. Sì, sì, io vi passo tutto. Ho lasciato questo qua, così avete le istruzioni per l'uso, diciamo. E dopodiché passiamo, diciamo, alle cose serie, ok? Così, qui erano tutti quanti i trucchettini. Ehm, ora passiamo alle cose brutte. Ehm, vi faccio, ve lo apro in parallelo con proprio lui, il... Il... Il mago ubriacone. Che bello, io ti ho visto colorarlo su Twitch. Eh, sì, no, è molto carino lui. Il mago ubriacone mi uccide. Eccolo qua. Allora, tolgo lo sfondo giusto per non dare fastidio. Insomma, che sono due cose diverse. Allora. Allora, solitamente, sopra ogni illustrazione, in ogni illustrazione, io faccio questa cosa qui. Voi vedrete a un certo punto che c'è la lineart, con sotto tutto ciò di cui abbiamo parlato finora. e poi ci sono altri livelli. E questi livelli sono quello che davvero fa del mio stile il mio stile. Ok? Il problema è che questa cosa è personale. Per cui ora vi spiego quello che faccio io, ma poi voi dovrete applicarlo al vostro stile. Ok? Cioè, non è... Ora, oggi, non è più una questione di automatismo. Ok? Non è una questione di metto multiply, faccio questo, esce questo. Ok? Perché questo qui, appunto, si chiama overpainting, perché io vado a pitturare soprattutto quello che ho fatto. Ok? Nello specifico, ad esempio, per questo, vedete che il lineart è qui. E poi c'è qualcos'altro. Questo è qualcos'altro, però. Cambia totalmente la faccia dell'illustrazione. Ma tu hai unito tutti i livelli dell'overpainting che hai fatto? No, no. È un unico livello. Eh, dico, li hai uniti in un unico livello, tutti quelli che hai fatto? Che cosa c'è da unire? Non ho capito. Cioè, tu, overpainting è tutto su un unico livello? Eh sì. Perché è pittura? È mattissima. È un altro livello, eh. Non so, ma se tu devi modificare una cosa... Cioè... Ripitturo sopra. Ripitturo sopra oppure cancello. Va bene. Mattissima. E questa qui, questa qui, raga, è pittura digitale. Ok? Pura. Il problema è che... Ma ho risolto la... È sparita dalla videocamera. Sì. E guardate, se voi guardate, per lo zoomo, senza overpainting, questo è dove siamo arrivati. Un overpainting, è un'altra illustrazione. Ok. Qui vi ho messo... Oh, è rigorosamente in normale, appunto. Perché, come vi dicevo, è in normal. Cioè, è pura pittura sopra. Ok. Ok. Ovviamente, normale sopra la lineart presuppone che tu possa cancellare la lineart. Ok? Che tu possa, diciamo, sovrascrivere la lineart. Qui vi ho messo... Questo qui è il livello in overpainting. Vi ho messo un grigio di sfondo, così si vede anche il bianco. Come vedete, sono contenute tutte le informazioni, sia delle variazioni cromatiche all'interno stesso piano. Vi faccio un esempio qui. Guardate il cappello. Senso per painting? Era semplicemente, ok, ho deciso che la luce mi viene un po' dall'alto a destra, quindi questa parte viene in luce, quest'altra viene in ombra. Qui ho iniziato a pensare. Ok, sì, questa parte però sarà più luce, poi ci sarà un po' di... di, diciamo, contorno, no? E questo farà un po' di ombra qui sotto. Quindi, qui è più scuro, però qui ho dipinto, nel senso che questo qui non è scuro come di qua. Ho iniziato a fare delle micro variazioni, anche questa parte, no, del cappello. Prima era semplicemente luce e ombre. Se voi guardate praticamente questa parte qui, ok, è come se io fino a questo momento mi fossi permessa di essere meno precisa in vista di questo. Ok. Ok. Semplicemente io. L'unico colore, oppure stiamo ripetendo i colori a base a cosa di segno? No, no, questo è tutto... Guarda, questi sono i colori. Hanno proprio, cioè, ho ricostruito l'immagine letteralmente. Ovviamente prendevo con la pipetta quello che c'era sotto, poi me lo modificavo leggermente in base a quello che volevo e andavo, in base alla versione della penna, a modificarlo di meno o di più. Ovviamente qui sono andata più pesante. Ad esempio, qui sopra non è che io ho fatto il cappello bianco. È semplicemente più chiaro. Vedete? Così era povero. Così è ricco il dettaglio. Ti sei messa con super hyper-precisione per non bruciare la line art per fare sta cosa. Perché se con il pennello vai, giustamente, essendo un livello sopra la line art, se vai a toccare la line art col pennello, vabbè, mo sono pennelli ben o male sfumati, quindi non è che ti brucia chissà cosa. Però se sei stata precisissima, perché se no... Guarda, se ti devo dire la verità, non ci faccio tanto attenzione. Perché, vedi, ad esempio, guarda il bastone. In parte l'ho cancellato. Eh, vedi, per quello, vabbè, però penso sia una cosa voluta. Esatto, sì, sì, perché, perché non mi... Cioè, nel canso non è che cancello il tala line art, attenzione, è tutta qua. Però qualche parte, qualche piccola parte, sì, è in favore di qualche altro effetto e amen. Però, però, nel senso, la line art è qui, Per esempio, no, no, non è che... Se tu guardi questo, in parte è cancellata. Però, cioè, nel senso, è anche un effetto che mi piace, non ci sto 100% attentissima. No, per quello dico, è una cosa che hai voluto tu fare. Sì, sì, nel senso. Con un'attività di causa, insomma. non è che... Esatto. No, 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 però non sono nemmeno stata a vedere il millimetro. Ok. Cioè, se voi vedete, guardate questa parte qui, questa, già c'è una mezza direzione di luce ombre, però non come questa. Cioè, io qui mi sono messa, ho pensato al piano, ho pensato alle... alle varie... Ho fatto pure le pieghe delle stoffe. Brava, le varie pieghe. E qui, guardate ad esempio questa parte qui, qui tendeva ad essere un po' piatta. È stata tutta rilavorata. Ok. Perché, allora, il fatto che noi lavoriamo su una cosa digitale non vuol dire che è tutto automatico. Questo è il punto in cui tocca lavorarci per conto nostro. Ok. Se voi guardate la bottiglia, ad esempio, questo è il momento in cui io inizio a lavorare sui materiali. se voi vedete fino a questo momento, a parte qualche mini riflessino che avevo messo per conto mio su un altro su un altro livello, io già avevo messo dei mini riflessi, guardate anche la bottiglia, così poi in overlay. Ma la questione pennelli rimane sempre la stessa? Cioè, pure per l'overpainting si utilizza uno e soltanto un pennello? Anche a te? Se lo chiedi a me, sì. Io utilizzo io utilizzo pochi pennelli, ne utilizzo boh massimo 4-5. Per l'overpainting? No, in generale è tutta l'illustrazione. Cioè, poi dipende da quello che mi trovo davanti, però io non uso... Cioè, non è il pennello che fa l'illustrazione, ragazzi, io voglio questa cosa la capite. Nel senso, poiché voi lavorate su dei software che hanno la pressione, cioè in cui è sottinteso che lui valuti la pressione che voi applicate, da quel momento lì non è più una questione di ho il pennello bello o il pennello brutto, è questione di come lo utilizzo, ok? Perché non ci stanno tanti al mondo che vi facciano dipingere più o meno bene solo a seconda del pennello. Però se usi un pennello piatto non ti farà mai queste sfumature. No, no, deve essere un pennello che presuppone la pressione, questo sì, deve presupporre la pressione, ma non è questione di, cioè, che io usi, faccio vedere, ok, stai, stiamo in normale, che io usi questo, o che io usi, non lo so, la cera. Scusa, non ti ho sentito, Gabriele? Dico, sembra quasi un colore a cera. Sì, ha una texturina, però ad esempio questo qui è un altro che uso. Che ne so, che quattro abbiamo qua? Adera, perché sono tanti, che ne so. Questo, comunque era questo. Questo qui è un altro che uso. Questo c'è meno pressione, infatti è solo per dire alcuni effetti. Eh, ce ne stanno tanti. Tutti, che so, ho questi. Questo qua lo uso molto, ad esempio, che non c'ha texture. Cioè, non è la texture che vi fa... Vedete, basta che sia un pennello che presuppone la pressione. Ok, tutto qua. Poi, per il resto, sta a voi utilizzarlo. Cioè, non è che i miei pennelli hanno qualche cosa di particolare rispetto agli altri, che hanno semplicemente la pressione. Ok, che ovviamente è una cosa base, perché senza pressione lasciateli stare. In ogni caso, la cosa importante dell'overpainting è che l'overpainting mi permette di distinguere un materiale dall'altro. Qui, se voi guardate fra il materiale della barba e il materiale del vestito non c'è differenza. fra l'altro, guardate... Guardate... Cosa stai caricando? Allora. Guardate qui, i flux. Guardate il colore della barba qui. E il colore della barba qui. Il gradiente di cui vi parlavo. Guardate il colore del vestito qui. E il colore del vestito qui. è esattamente quello di cui vi parlavo. Anche sul cappello. Anche sul cappello, esatto. Anche sul cappello. Ok? Quindi, cioè, effettivamente c'è differenza. Perché se poi voi vedete alla fine di tutto c'è differenza tra la barba qui sopra e la barba qui sotto. E quindi, se voi vedete senza l'overpainting il materiale della barba e il materiale del vestito sono lo stesso materiale, ok? Non c'è differenza. Al momento dell'overpainting però che cosa ho deciso io? Ho deciso che comunque il vestito è opaco ma la barba no. La barba è lucida. E quindi su un normale sono andata a farci i riflessini e i riflessini sono una cavolata da fare con vi cambio il pennello visto che così vi faccio vedere. Io li faccio molto manga. Cioè inizio a fare così poi prendo la faccio C insomma per farlo trasparente e inizio a fare questo sopra e sotto. poi lo sfumo un pochetto io faccio qualche ma hai preso la gomma per cancellare? No ho preso per modo C questo qui è senza questo qui è un pennello senza texture non è lo stesso che ho usato in quel caso lì. Ok? Beh sì però non so la funzione però cerco di non ho capito no 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 non riesco a capire la funzione cioè premuto C che vuol dire C ah C è quello che ti ho detto l'altra volta che è su clip per fare in modo che sia una gomma che ha dello steta la stessa texture del pennello allora sì sì però non ti toglie la texture assolutamente no lui continua a usare la stessa texture ok ho capito quindi inizio a fare così finché non mi ritrovo insomma un quindi praticamente con Photoshop noi non potremmo farlo col pennello cioè dovremmo cercarci un pennello in equivalente della gomma esatto eh raga io quando vi dico che è meglio clip mica ve lo dico perché sono una fangirl è davvero meglio clip senti ma una cosa invece che è una domanda riferita a un salto indietro perché mentre tu stai facendo queste prove io ti sto venendo dietro ma il gradiente su che livello sta su overlay su in questo caso io poi ho unito il livello del flats con il gradiente perché sapevo che a questo punto l'overpainting non avrei più cambiato quindi era un altro livello che stava sopra così chiamato gradiente poi l'ho unito con i flats perché non mi servivano più essenzialmente le selezioni quindi mi sono però tendenzialmente se no su che cosa sta sta su un livello sopra in normale sopra in normale sì sì perché solo cioè tu devi selezionare con i flats devi selezionare che ne so questo ok sì ma qua vedo selezionare anche questo perché è la è la macchietta di e basta usa tutto tranne il lazzo please ok e ok ti crei l'altro livello aspettate che creiamo tutto sotto questo è flats sì ok ok so prendo questo e dico ok lo voglio un po' più bluastro sotto gradiente ok ad esempio io qua non l'ho fatto però perché non è quello di fare per corto su tutto però è un'arma diciamo una pericola che fa retra per 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 brava ok quindi overpainting qui io inizio a pensare al materiale ad esempio so che le bottiglie di vetro tendenzialmente hanno un un riflesso questo riflesso nel vetro va a bruciare quello che c'è sotto cioè non si vedrà più il che ne so questa linea che io ho fatto il bordino esatto per dividere il contenitore dal conto no tanto sto in normal brucio tanto si brucia di per sé no quindi andò lì questo che prende bianco quasi bianco sono andato lì e me lo sono me lo sono fatto stessa cosa qui io sono andata sopra e poi le righette che voi vedete che sono rimaste è perché io le ho cancellate appunto con la funzione dc per cui ho il il pennello gomma e me lo sono riandata a cancellare però inizialmente c'ero passata sotto c'ero passata sopra me l'ho fatta il mio la mia shape del la forma del del riflessino e poi me lo sono andato a ricancellare dove volevo che si vedessero a nine art stessa cosa gli occhiali ho iniziato a bruciare qui quello che faccio io è questo ad esempio io qui ho il ciano no decido di muovermi verso il blu infatti mi sono mossa verso il blu per qui e qui nel momento in cui ho questo mi muovo comunque verso il blu cioè dalla parte che sta più vicino al blu diciamo non faccio tutto questo giro qua faccio no io dico no io dico un'altra cosa ok tipo seleziona il colore colore tipo del cappello facciamo conto questo base sì esatto per fare il gradiente tu magari ti sposti più verso il blu scuro per dire no invece poi vai a selezionare la barba che penso che sia tipo un giallino bello sì lo faccio di crema sì ok qui tu ti sposti cioè tipo verso il giallo perché comunque continui ad andare verso quella direzione oppure indifferente te l'ho detto non so se ho capito male la domanda perché mi sposto sempre cioè da questa parte qua capito ah ok ormai ho deciso che vado in questa direzione quindi vado sempre in questa direzione se io per dire devo cambiare il gradiente di questo me ne vado sempre in giù non me ne vado in su ho capito cioè mettendo sempre il violetto blu ok da questa parte qui dei colori freddi non vado non vado diciamo dei colori mezzi freddi poi vorrei perdere vabbè sono quelli freddi rossi sì no nel senso perché erano sono i freddi calvi relativi no come al solito però me ne tendo a venire da questa parte qui ok perché ho deciso questa qui la mia direzione lascio stare gli altri colori sono comunque sperimenti da fare però tendenzialmente io restringo la mia palette il più possibile ok capito e ok quindi come vedete nel senso non c'è non è automatico ok vi dovete mettere là e questo cioè nel senso se voi guardare questa illustrazione così non è la stessa illustrazione è pubblicabile sì è pubblicabile ma questa è meglio e non meglio di poco cioè è proprio meglio ok quindi semplicemente mettersi lì un'oretta due e ti metti là e ti fai queste cose qui ma poi la faccia nel senso non è più la stessa di prima capito e per di più avete la concezione del materiale cioè il materiale riflettente rifletterà il materiale opaco continua a rimanere opaco però avrà delle gradazioni di colore perché appunto o prima abbiamo lavorato su piani diciamo semplificati ora iniziamo a pensare ok ma questi piani come sono divisi poi tra di loro ci sono dei micropiani al loro interno e inizio a pensare in questo modo qui cioè io da tre cose faccio principalmente attenzione effetto riflettente di vetro barba capelli tutto ciò che riflette deve riflettere non può essere dello stesso materiale di tutto il resto ok più variazione cromatica rifinitura delle luci e ombre su tutti i piani cioè guardate il bastone l'ho ricreato infatti sì perché se voi vedete qua era anche una cosa molto piccola no il bastone cioè molto fina e quindi io ok ci avevo messo luce e ombre però ce l'avevo messa in maniera abbastanza veloce poi con l'overpainting sono andata da là ho detto ok ma questo qui è nodoso quindi la luce non può essere non può andare giù dritta capito così no questa qui è il materiale ok è la la diversa lavorazione dei materiali però questa lavorazione dei materiali più che dirvi il vetro riflette eccetera eccetera non ci sono delle regole che vi posso tramandare perché semplicemente mettervi lì studiarvi i materiali come si comportano e cercare di replicarli vi faccio vedere anche la lavorazione di della insomma della donna sul lago la mia versione per farvi vedere un po' una differenza tra il primo e il dopo per il painting e tutto quanto allora prima di tutto prima di tutto vi faccio vedere allora io ho fatto riprendiamo un attimo dalla luce perché non ve l'avevo fatto vedere questo per non influenzarvi allora qui questa qui era l'ombra come vedete è un'ombra molto in realtà molto meno definita perché avevo semplicemente deciso io avevo fatto una grande lavorazione appunto sui sulle ombre delle fronde tutto quanto quindi avevo deciso che per ora mi accontentavo di decidere semplicemente che la luce veniva dal centro dopodiché con la luce se la luce ci assiste ok sono andata a lavorarmi meglio dove pensavo che arrivasse ovviamente Sara questa parte è in luce di nuovo cioè la ponte di luce deve essere per forza in luce ok mi ero fatta queste lavorazioni qui perché stavo un po' sperimentando così con questo stile nuovo e semplicemente sull'acqua avevo deciso che arrivava qui e basta e allora qui c'è l'overpainting che cambia tutto nel senso che guardate i riflessi dell'acqua qui non c'erano o ci stanno e non è appunto un discorso di texture o un discorso in print un discorso proprio di dipingere a seconda di come come si comporta il materiale nella realtà ok cioè io so che l'acqua tende a fare queste ondine tende a riflettere la luce in questo modo qui ho cercato di replicarlo e per il resto che cosa c'è ah tutte le rocce vedete c'è un po' più di texture che ce l'ho aggiunta con un altro pennello e via dicendo però l'acqua ancora non mi stava bene quindi ho aggiunto quest'altro livello in multiply mi sono andata a fare più ombre perché mi doveva fare più contrasto vedete mica contrasto ok sempre con un pennello questo senza texture vedete che mi che mi dia un po' la cosa dell'acqua e poi non contenta che ho aggiunto quest'altro livello in overlay che vedete mi fa l'acqua più azzurrina più riflettente quindi ma ho anche aggiunto una specie di polverina sulle rocce se vedete arancione o niche arancione insomma che fa la stessa cosa che vi ho fatto vedere nella tavola cioè ho riscaldato il punto in cui si toccavano le luci come nella tavola che vi ho fatto vedere prima con il rosso questa volta l'ho fatta con l'arancione quindi overpainting è la cosa principale però non è detto che sia per forza l'ultimo aspetto perché appunto quello che vi voglio far vedere è non l'ho aperto questo che è l'ultima cosa su cui stavo lavorando l'altro giorno questa e poi succedono diverse cose sopra la lineart anche sotto in realtà allora vi faccio vedere questa qui è il momento shock della serie ok abbiamo imparato le regole però non è che non è che fanno tutto loro allora prima di tutto questa qua texture la sono messa sotto l'ho deciso contrasto colore tutto quanto l'ho lasciata là queste sono le ombre senza i clats ah ok scusami è così senza i clats è così come vedete in questo momento non c'è nessuna differenza ovviamente ho colorato la lineart è la lineart bianca perché l'ho ricolorata sempre con lo stesso discorso e il riflesso nello specchio e lei per il momento sono dello stesso materiale ok cioè lei potrebbe essere una finestra in cui una la guarda ok perché per ora luci ok luci luci e ombre ok quindi finora chiamo luci ok qui ho acceso la luce della lampadina che in normale è questo vi faccio vedere senza niente sotto è questo questo coso scuro che vedete qui questa è luce è luce che però non essendo così forte come qui l'ho desaturata e scurita però quando lo mettiamo in overlay questo farà comunque effetto luce ok se voi guardate senza ok perché ho deciso la luce sarà sicuramente più forte intorno alla candela e più debole su di lei quindi tutto ciò che è su di lei è più desaturo e più scuro da perché però ho detto questa luce non fa abbastanza luce la voglio di più ho messo hard light e ho fatto questo ovviamente questo ovviamente tanto doveva colpire lei io qui sotto avevo un piano su cui appoggiarmi quindi potevo semplicemente decidere che lei era più illuminata ok quindi già questo qui non è un automatismo ok è una cosa perché a te sarebbe stata così ma io ho deciso che per il mio gusto doveva essere più di più ok poi ho aggiunto questo qui in glow add glow questo che si chiama in cui praticamente mi sono lavorate i riflessi questa volta l'ho fatto in glow che è questa cosa in cui brucia tutto quanto infatti l'ho dovuta anche abbassare perché al 100% brucia tutto e non era nemmeno cioè non era molto calcato ok quindi mi sono fatto tutti i riflessini dei capelli e dello specchio ma lo specchio non sembra ancora uno specchio sembra ancora una finestra quindi cosa ho fatto sopra la lineart mi sono creata a un livello normale e ci ho messo che è bianco ci ho messo una specie di bianco vedete che sopra è più l'ho cancellato in parte perché volevo che fosse più riflettente sotto che sopra e me lo sono messo nei peri a 20 ok e ecco qua che lo specchio che prima era una finestra diventa specchio e questa cosa ovviamente non potevo farla sotto la lineart perché se lo metto sotto la lineart è tutto un cavolo no sì 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 ok quindi per questo la lineart deve essere sicuramente bruciata e poi overpainting quindi su questo ho iniziato a lavorare gli occhietti che devono essere lucidi poi che altro ho lavorato ah guardate che ne so lei lei deve far paura no deve avere la luce da sotto mettiamogli la questa luce da sotto ok facciamo vedere che le labbra fanno ombra che gli occhi rimangono infossati ok stessa cosa qui penso all'overpainting era tutto un po' debole ho fatto le labbra i riflettini di qua i riflettini di là e sono arrivata a questo punto dopodiché cosa è questo ah ho preso screen e ho deciso che volevo bruciare un altro po' qui intorno alla candela perché mi sembrava poco reale ancora troppo grafico e me lo sono un po' bruciato ok quindi morale della storia questo qui era per un po' per un po' momento di shock per farvi vedere che tutti gli automatismi che abbiamo fatto finora non sono sufficienti a creare l'illustrazione che vogliamo dopo bisogna aggiungerci un po' di ragionamento cioè come al solito abbiamo spacchettato una cosa difficile in cose più facili ma quest'ultimo passaggio qui in cui ci stanno le rifiniture quello può stare solo a voi solo al vostro stile solo alla vostra sensibilità e tutto quanto ok perché altrimenti arriveremmo nemmeno no aspetta l'energia ci detta arriveremmo senza i riflessi qui ok questo qui è quello che funziona ma non esattamente infatti infatti comunque funziona però guardate la differenza fra questo e questo letteralmente non è la stessa illustrazione ok e questo c'è poco c'è poco da fare cioè nel senso non è lo stesso passaggio ogni volta perché non ho lo specchio ogni volta quindi non mi devo inventare ogni volta come fare l'effetto dello specchio ci penso faccio un po' di prove ok funziona dopodiché che ne so già ho sdoppiato la luce perché ho fatto due effetti di luce diversi uno per lei e uno hard light quindi queste qui sono tutte cose che esulano dal mettere l'ombra in multiply mettere cosa in overlay abbassare i flats perché se no mi si brucia quello lì l'abbiamo preso messo da una parte ce l'abbiamo però poi quello che fa la vera differenza è quanto voi sapete arricchire l'illustrazione ok secondo il vostro punto di vista questa non è una cosa ovviamente che vi posso insegnare passaggio per passaggio perché dipende dal vostro stile certo va bene è tutto spero vi sia stato utile inserisco ah non male spero non vi siete depressi aggiungo il gig su fiber adesso dopo l'overpainting la tua illustrazione che sei di Angela no dico dopo l'overpainting mi sono un pochino depressa però a parte quello no no non lo capisco eh sì bisogna farci un po' vabbè però è tutto da studiare voglio dire non è che viene esatto in quattro lezioni non impari a colorare esatto ma non è che in dieci lezioni ma non è che in dieci l'imparare nel fare poi purtroppo perché sarebbe il fatto di avere un plugin diciamo che il discorso è avere più strumenti diciamo che semplicemente vi fanno saltare magari mesi e mesi in cui cercate di capire semplicemente cosa dovete fare e così potete passare allo step successivo certo diciamo va bene questo è quanto comunque bravi grazie meno male allora ringraziamo Noemi grazie mille per la disponibilità e la professionalità ringraziamo anche gli allievi che ci hanno seguito in questo primo effettivo corso online come ripetito più volte se avete necessità specifiche comunicatecelo e cercheremo appunto nel possibile di fare dei corsi specifici sulle vostre esigenze io vi saluto vi saluto a nome di tutta la scuola è stato davvero un onore un piacere avervi con noi e vi auguro buona giornata e alla prossima ciao ragazzi ciao ciao buona domenica ciao 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 Grazie a tutti.